ciao ciao a tutti e benvenuti su archidee oggi vediamo insieme cosa c'è all'interno dell'ultimo pacchetto che mi è arrivato per una collaborazione con bb craft con cui sapete che collaboro da anni e questa volta ho scelto degli articoli ancora una volta diversi perché sul loro sito c'è tantissimo assortimento prima di tutto ho scelto il calco per creare una scacchiera in resina che era in coordinato con questi calchi per creare poi gli scacchi da mettere sopra e ci sono in tutto quattro calchi per gli scacchi che sono divisi a metà e vi ricordo che dopo l'unboxing arriveranno due video tutorial per cui mi vedrete realizzare la scacchiera e penso anche gli scacchi sono un po indecisa perché essendo dei calchi da realizzare in due parti non so se il risultato finale sarà ottimale oppure no mi rimane qualche dubbio lo vedremo insieme adesso però vediamo questi altri due pacchettini che erano contenuti all'interno della stessa spedizione in uno ci sono degli oggetti che mi serviranno per creare quindi probabilmente per un futuro tutorial in questo pacchettino invece ci sono delle pietre sono delle pietre di labradorite in realtà non è la labradorite che tradizionalmente conosciamo ma è un granito con delle parti di labradorite e sono chiamate worry stone o healing stone o pocket palm stone sono in pratica delle pietre che hanno una cavità centrale e che si possono tenere nel palmo della mano e accarezzare per alleviare l'ansia non so se funzioni non meno ma le avevo viste da diverso tempo sul loro sito ed ero molto curiosa di toccarle con mano appunto poi c'è un'altra scatolina che invece contiene delle targhette in alluminio di tanti colori diversi normalmente queste targhette vengono utilizzati per i collari dei cagnolini e viene scritto sopra il nome e il numero di telefono del proprietario in caso appunto di smarrimento volevo provare a inciderne proprio una con questa finalità per la mia cagnolina da cota ma posso provare a utilizzare le altre anche per fare altre cose se avete dei suggerimenti fatemeli sapere io volevo utilizzarle anche per fare dei portachiavi con nome oppure per distinguere le chiavi delle diverse case e volevo provare a inciderle sia con la cricket maker 3 che con il mio nuovo dremel stylo plus quindi sono materiale per fare un po di esperimenti creativi vari spero che questo unboxing sia stato interessante per voi io adesso vi saluto e ci vediamo con i tutorial nei prossimi video ciao ciao